Salve ragazzi e bentornati su Minecraft Dungeon E siamo qua sempre in versione Harry Potter perché ci piace sta armatura Ci siamo potenziati tantissimo, siamo a livello 5 Il che ci permette di fare la prossima missione Vediamo un po' di che cosa si tratta ragazzuoli Allora io farei Crypto Inquietante che è questa qua Potenza consigliata 4, va bene E ti potrebbe dare un po' di roba Allora, rilascio l'equipaggiamento, ti potrebbe dare questa roba qua Beh ce ne può frega di meno Vediamo la storia Allora, c'è una cripta che si estende sotto la foresta Dove gli abitori pensano di poter continuare indisturbati i loro piani malvati Riuscirai a fermarli o ti perderai nell'oscurità? Li fermeremo sicuramente senza problemi Signori, andiamo a fare la cripta inquietante In viaggio verso cripta inquietante Ok ragazzuoli, e siamo nella cripta inquietante Che inizia subito con sta cosa Che mi dice di andare direttamente là Mo, io qua è tutto chiuso Quindi non posso uscire da qua Finché non finisco la cripta Giusto, noi gironzoriamo intorno sempre alla ricerca di strane ceste nascoste Ma non vedo, ma non vedo un cacchio Ok Vi ricordo che c'ho pure il manufatto mistico qua Che se lo piazzo praticamente mi cura Che è una cosa abbastanza figa Quindi direi Ragazzi non perdiamo tempo Infiliamoci in questa cripta E vediamo quello che succede Ok, siamo nella cripta Decisamente Oh porca zuzza Questa nena è una cripta Un labirinto Che palle Io mi perdo tantissimo vicino a queste cose Allora Iniziamo a vedere questi amici zombetti Che subito spuntano felici Come delle manguste apocalittiche Pronte a divorarti l'universo Secca tutta la gente Che ce ne ho frega di meno C'è un regnetto che mi sta rompendo le palle In lontananza Ok No, mi ha bloccato Bastardo Aumento di livello Signori, attenzione Attenzione che siamo aumentati drammaticamente di livello Qua vediamo un po' che cosa succede Se vado qua Insomma cerchiamo di esplorare in modo abbastanza calmo E soprattutto ordinato Ok Con quest'arpa sonnereccia qua Ho appena notato che non posso fare un colpo caricato Giustamente Perché appena premi Lei spara Però non è un grosso problema Certo le frecce non sono infinite Quindi potrebbe diventare un grosso problema Ma diciamo che ce ne sbattiamo allegramente per il momento Quindi procediamo di qua E raga È un po' complicata questa mappa E vi dico la verità Ho beccato qualcosa Che non ho visto cos'è Ah, rapidità Ok Abbiamo rapidità in questo momento Raga È un labirinto sto posto Quanto schifo i labirinti Porca zozza Quanto schifo i labirinti Potresti morirci malissimo per favore Grazie Muori anche tu Cos'è sta roba? Ho fatto qualcosa di brutto? Ho fatto potentemente qualcosa di brutto mi sa Ammazza tutti Ammazza tutti Ammazza tutti Prenditi sta cosa Butta sta TNT Ammazza quello Potreste morire tutti? Sono morti tutti per sempre? Sembra di sì Ok Ma te ne vai anche tu per favore Fuori dalle balle Eh raga C'è un sacco No 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 Porca miseriaccia Zozza Che schifo Ok È arrivato il momento di provare il nostro bellissimo totem Della rigenerazione Eh beh raga Ma è una figata sto coso Cioè lo metti per terra e ti rigenera dai E soprattutto non si consuma mai Che figata Ok Insomma abbiamo esplorato un po' di roba Vediamo un po' qua Cosa altro c'è da esplorare Eh raga È un casino Ragnetto 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 È rotto le palle Te lo giuro Ammazziamo pure questo Ok Ok Con calma Porca zozza Quanta cacchio di gente che c'è C'è una cesta Sì Che belle le ceste Raga È complicato questo livello Eh Vediamo un po' di qua che cosa c'è Zombettino magico Va bene No No Non ci provare proprio Ok Un ponte che se ne cade Allora Aspettate che qua è spuntata la cesta Ma quando è spuntata sta cesta Che non l'ho vista io prima Vabbè Ce ne frega niente È spuntata la cesta L'importante è quello Raga Io non so da che parte andare Sinceramente Vabbè Da qualche parte dovremmo pure andare Quindi Proviamo ad andare di qua Intanto Poi rivediamo il ponte Ok Intanto sto facendo Una carneficina Ragazzuoli Vediamo qua che cosa c'è Creeper Assassini Ammazza tutti Bravo Bravo così Questa la devo per forza Beccata Però è un peccato Cioè Perché mi fai prendere le pozioni E me le fai usare Istantaneamente È una sola Che è Qua c'è una statua Di un villager Di qualcosa Fai qualcosa Tu Ci sarà un pulsante Da premere No Non vedo un cacchio Non c'è nessun pulsante Da premere Quindi possiamo andare qua Secchiamo il tipo Secchiamo anche a quest'altro Secchiamo a te Ah ok Gli smerardi Devo andarci per forza Un po' vicino Per prenderli Anche questa è una buona Cosa da sapere E questo pavimento Non mi ispira Manca un po' Vediamo se è vero No non è vero Niente Sono io che sto strano Ok Qua c'è qualcosa Di utile No Non succede nulla Va bene Controlliamo sempre la mappa E continuiamo La nostra bellissima esplorazione Di questo dungeon Che mi ricordo più Come si chiamava La cripta inquietante Allora Dobbiamo trovare Il tomo perduto Praticamente qua dentro A meno così Mi dice Senti Butta un attimo Sta cosa Per favore Qua secchiamo Tizio Qua c'è un altro Ok Lo secchiamo tantissimo Va bene Mi sto perdendo In modo brutto E questo sicuramente Fa qualcosa Cos'è sta roba E' scattato l'allarme Porca zozza Porca zozza Perché ho fatto scattare l'allarme Fermi tutti Fermi tutti No Moriteci malissimo Malissimo tutti No 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 Metti il totem Metti il totem Usa la rigenerazione Metti anche il totem Ci stavo morendo male Raga Malissimo Ci stavo morendo Porca zozza Ok Abbiamo trovato una chest Un bel po' di roba Che cosa mi hai dato Vediamo un po' Allora Questa è una spada Rara Che però E' meno potente Della mia Mi sa Affilatezza Questa cos'è Tonante Aspetta che sento Gente che sta vicino Qualche cosa c'è Esce un botto di smeraldi Un botto di smeraldi Va benissimo Controlliamo la nostra mappa Per vedere Se ci siamo saltati I pezzi Ma da questo lato Mi pare di aver completato Tutto Quindi a questo punto Io dovrei andare Da quest'altra parte Su ragnetto Maledetto Schifo E dovrei andare Di qua Ok Perfetto E porca zozza Ci stavo rimanendo Per guardare Il cacchio di labirinto Che casino Non vi avvicinate Mai Mai E poi mai E quanta cacchio di gente Ok C'era un bel po' di gente Ragazzi Perfetto Muorici un attimino male Per fortuna Che le frecce Ce ne stanno Un bel po' Porca zozza Ma quanta cacchio di gente C'è dentro sta mappa Muorici un attimino male Cos'è qua Succede qualcosa Devo cliccare Da qualche parte Non lo so raga Non lo so Ok Controlliamo sempre La nostra mappa Qua mi pare Di aver finito tutto Ok Possiamo tornare indietro Che casino Quindi giriamo di qua Ce ne andiamo qua su Belli felici Allora a sto punto Io tornerei Proprio all'inizio Quindi non qua Ovviamente Ma da quest'altra parte Esatto E poi girerei A sinistra E esploriamo Quest'altra zona Che non abbiamo ancora Esplorato E vediamo un po' Che cosa troviamo Noi siamo alla ricerca Di un tomo perduto Quindi dovrebbe essere Un libro In teoria E vediamo un po' Di qua Esploriamo con calma Insomma Stiamo molto attenti Comunque è fatta benissimo Sta cripta Mi sta facendo venire Voglia di costruire Guardare Giocare a sto gioco Quindi penso proprio che Farò delle costruzioni nuove Perché mi sta veramente Venendo voglia Di costruire roba Cioè è veramente figo Ci ho fatto proprio bene Guardate com'è carina Sta cripta Tutta particolareggiata Molto bello Ok Senta Ragnetto Sì Ciao Senta Scheletro Lei può anche morire Questa l'abbiamo fatta Ok E c'è un altro Super labirinto in alto Raga Madonna Ma è gigante Sta cosa Guarda quanta roba Cioè Non so se vedete Sì sicuramente Vedete la mappa C'è l'universo Qua dentro Ok Che cos'è sto posto Che cos'è questo posto Gente da tutte le parti Là c'è un tipo Qua c'è un tipo Qua c'è un tipo Ok Abbiamo trovato robe Tu fai qualcosa Non fai un cacchio Allora fatemi vedere Un attimo l'inventario Questa cosa c'ha Più 39 di salute Più 10 frecce E più 30% di danni a distanza Mi darebbe più vita Però mi piace di più Quella che c'ho Per il momento Poi mai dire mai Eh raga Perché secondo me Sicuramente ne cambieremo Un sacco di ste cose Ok Creeperot Sono morto malissimo Ma sentite gli effetti Sonori fantastici Porca zozza Andiamo di qua Buonasera Salve Sono Harry Potter E sto cercando Di rompervi qualcosa Sento dei rumori brutti Ma non ho capito cos'è Cioè sento veramente Dei rumori bruttissimi Ma non ho capito Chi è che li sta facendo Ok vabbè Diciamo che per il momento Non ci interessa Continuiamo di qua Forse devo andare anche di qua Sì Secchiamo un attimo Il creeperozzo Qua così velocemente Qua cosa c'è? Un cacchio Va bene Qua c'è un altro Zona molto utile Cioè poco utile direi E da quest'altra parte Si va ancora in un'altra zona Ok Raga È un labirinto Sta cripta Porca zozza Mi è esploso Un creeper in bocca No No perché Non ci ho fatto caso Ok Qua c'è uno corazzato Che lo secchiamo subito Uno zombetto normale Va bene così Piliamoci i nostri smeraldi E là c'è un ragno Che cerca di sputarmi Attraverso le pareti Ragno deficiente Mi puoi sputare Attraverso le pareti Tu mi puoi beccare Tantissimo invece Vedi? Ok Cos'è sto posto? C'è una bellissima cassa Con roba Ok L'eroe ha raccolto la spada Eh ma sì Effettivamente l'ho raccolta la spada Una pozzoncina così Questo altare fa qualcosa Non mi pare Qua c'è qualcosa Pulsantini Cos'è questa? Una pressor plate No No Ok inizio ad avere visioni Vabbè Dobbiamo tornare indietro Chiaramente Che qua abbiamo esplorato Vediamo un po' cosa avevo preso Spade Spadine Non ce ne frega niente Intanto questo mi sta seccando male Che sarà E quando apri l'inventario Giustamente Il gioco non va in pausa Qua non c'è nulla Ma qua c'è qualcosa di brutto Vabbè Mi riaprerà di nuovo quella porta Ok Quindi me ne vado un attimino qua Stavolta già lo so Quindi faccio così Ecco Per sicurezza raga Che non si sa mai L'ultima volta ci stavo rimanendo Però adesso rimango nel mio cerchio protettivo Cerchio protettivo che è finito Ok Se cadi tutti? No C'è rimasto uno scheletino maledetto E vabbè Ok Apriamo qua Apriamo qua Vai Raccogli tutto E apriamo anche la chest Allora Fammi vedere che ho preso Fammi vedere un po' che ho preso Oh C'è la spada rara Una lama resistente affidabile 16-26 di danno Vabbè Poi le esaminiamo con calma Tutte le cose che troviamo Raga Perché al momento è un po' Rognoso Ok Intanto posso andare con rapidità Ancora per 3 secondi Ecco E' finita la rapidità E torniamo indietro Vabbè Qua in teoria dovrei Oh porca zozza Eh vedi C'era una zona che non avevo ancora controllato Che era appunto questa qua Però adesso l'abbiamo controllata Abbiamo finito di esplorare questa zona E possiamo tornare indietro ragazzuoli Da qualche parte Più o meno qui Esatto Poi si gira Mi sto perdendo male Proprio male No Si gira di qua Ok Poi si va così Si gira da quest'altra parte Si torna qua così Che casino In teoria ho ucciso tutti i nemici Che stanno da queste parti Quindi dovrei essere abbastanza Sciallo e tranquillo In teoria Poi mi sto perdendo Con tutta la mappa Non ci voglio crede Ok Si va così C'ho anche la fraccetta Che mi indica la direzione Dove cazzola la stia andando ragazzo Siamo quasi tornati all'inizio Di questo dungeon ragazzuoli Gira di qua Ma c'è sto dungeon Senza mappa Come lo facevi Cioè giravi qua per 37 anni Ok E adesso bisogna scendere di qua E poi girare A sinistra Cioè da questa parte E qua inizia il nuovo dungeon Che non abbiamo ancora visto Ok Intanto io qua butterei sta cosa Tanto per gradire E abbiamo capito E abbiamo capito che questo ponte Casca male Casca molto male Ok Per fortuna L'abbiamo passato Ottimo Secchiamo tutti Ok Ok Va benissimo così E ho notato che Quando ammazzi la gente E prendi delle particelle Di esperienze Di schede Così a gratis Zombie Zombetti Va bene Per fortuna che di freccia Ne trovi un botto Oh oh Ho trovato della carne di maiale Che mi da rigenerazione Che mi fa molto piacere Dove sono? Sono qua Perfetto Scusatemi ragazzi Sweepo sempre la mappa Ma Vi assicuro che è un casino Te perdi in 5 secondi Nel nostro gioco Andiamo da quest'altro lato E vediamo qua Che cosa troviamo Creeperozzi A go go proprio Come se non ci fosse un domani Mori malissimo No 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 Non ti impappinare ragazzo Porca zozza Mi sono un attimo impappinato Ma io non capisco i rumori che sento Cioè penso che se ne cadano pezzi Di sto coso Di sto ponte Ma non si vede Va bene Ce ne frega niente Allora E abbiamo visto Che qua c'è una cesta Da qualche parte E qua Senti Moriteci un attimo Per favore Grazie Ottimo Secca il creeperino qua Che è stato Un piccone Un piccone Raga abbiamo trovato un piccone A che serve il piccone Che figata Ma allora potrò scavare Ma non mi dire Ma non mi dire Oh no raga Sto gioco è bellissimo L'avevo sottovalutato Proprio tantissimo Invece no È proprio figo Ok Abbiamo seccato gente Vediamo qua Che cosa c'è Niente Comunque Mi fa venire voglia Di costruggio Questo gioco Ve lo dico Attenzione Se ne cascano pezzi Se ne stanno cascando pezzi In modo brutto Ok non c'era nulla Va bene Teniamo indietro Teniamo indietro Ok Raga E penso che ci rimane L'ultimo pezzo Di questo dungeon Da esplorare Che dovrebbe essere Più o meno Da questa parte In teoria Vediamo un po' Sì Dovrebbe essere Da qualche parte Qua Ma guarda come Sono belli Creeper Quando muoiono Agonizzando Cioè è una cosa Troppo figa Lo so Sono un po' Macabro In questo momento Però raga Oh so Creeper Non è che Gli possiamo Fare le feste Ok Cos'è Maiale Ancora Va benissimo Aia Morici un attimo In due secondi Oh prendiamo Un'altra roba qua Qualcosa c'è di bello Un Kaiser Va bene Sentite Sentite Gli effetti Sonori Fighissimi Allora Secondo me Siamo arrivati Al punto Culminante Di questo Dungeon Vediamo da quest'altro Lato cosa c'è Niente E quindi Adesso dovrebbe venire La parte interessante Non ci moriamo Gentilmente Ok Porca Zozza Dovrebbe essere Qua la parte Figa Giusto Qua crolla tutto Ogni 5 nanosecondi Ok E' un po' vecchietto Questo posto Raga Ve lo dico Perché come ti muovi Muovi Crolla la roba Ma non è un problema Qua c'è qualcosa di utile No Sì Non ci morite Non ci morire Ok Niente Torniamo giù Mamia Raga Roba assurda Qua non c'è niente Facciamo Andiamo di qua Allora qua c'è una leva Ho cliccato sulla leva Non volevo cliccare sulla leva Quindi iniziamo a mettere subito questo Così almeno sto in una zona Protetta Porca zozza E raga perché qua Arrivano nemici a tutte le parti Diventa veramente complicato Ok Abbiamo seccato Sta ancora gente Che cacchio Quanti ne siete Hai te rotto le palle Hai te rotto le palle Ok Anche tu hai rotto le palle Muoricci malissimo Oh ma quanti cacchio Ne siete Basta Ok Ce l'abbiamo fatta Abbiamo preso altre roba Mamma mia Quanta roba ho preso Fammi vedere il mio inventario Vabbè altre spade Altre roba Figo 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 Fatemi vedere la mappa Qua che cosa ci dice Ok Ok la mappa mi dice Che devo ancora Fa un botto di roba Sì raga Abbiamo un botto di roba Da fare ancora Eh ragazzuoli Questo dungeon È bello lungo Quindi io direi Signori Che conviene fare Una pausa Perché ragazzi La cripta inquietante È inquietante Ed è anche gigante Comunque ragazzuoli Io per questo episodio Mi fermo qua Mi raccomando Se il video vi è piaciuto Come al solito Lasciate un like Spolliciate Condividete Se il video Che il canale Sui vostri social E se non l'avete ancora fatto E vi fa piacere Iscrivetevi al canale Cliccando sulla campanellina Io per questo episodio Di minecraft dungeon Facendo un 360 Con la TNT in testa Mi fermerei qua E vi do appuntamento Sempre sul canale Per un prossimo video Ciao ragazzi Ciao